Quindi abbiamo visto l'altra volta i filtri biquadratici, adesso vediamo i filtri con più di due poli. Come si affronta la progettazione dei filtri con più di due poli? Vediamo i criteri principali innanzitutto. Allora, bisogna cercare di capire da dove è che si parte e in generale noi partiamo da un set di specifiche. Specifiche nella progettazione che ci dicono, per esempio, quant'è la banda del filtro, che forma devono avere le regioni della funzione di trasferimento intorno ai limiti di banda, inferiori e superiori, come deve andare giù la risposta del filtro, andare su, diciamo, intorno ai limiti di banda. Queste sono tutte cose che vengono fissate da chi richiede il filtro. E tipicamente il processo che bisogna seguire mentalmente è questo. A partire dalle specifiche bisogna decidere qual è il tipo di filtro. Tipo di filtro vuol dire la categoria del polinomio. In particolare è il polinomio del denominatore. Voi sapete che la funzione di trasferimento ha un polinomio a numeratore e un polinomio a dominatore. Il polinomio a denominatore è quello che contiene i poli, che sono in generale le singolarità più critiche del filtro. Scegliere il tipo di filtro vuol dire scegliere il tipo di polinomio del denominatore, cioè la classe di polinomio e l'ordine del polinomio. In letteratura tecnica ci sono molti tipi di polinomio che vengono adoperati, che sono sfruttati per le loro proprietà matematiche, che si traducono in proprietà del filtro corrispondente. Per esempio una categoria di polinomi sono i polinomi di Batteworth, un classico, probabilmente più semplice, più comune. Poi ci sono i polinomi di Cebicev, per esempio, un'altra categoria. Poi ce ne sono tanti altri. In generale sono tutti polinomi che hanno nomi di matematici, che li hanno introdotti tipicamente per motivi indipendenti dalla realizzazione di filtri e che però nel tempo sono stati trovati molto utili per la realizzazione di filtri. Quindi, ecco, una volta scelto il tipo di filtro, la terza cosa in ordine di scelta è l'ordine del filtro, quindi l'ordine del polinomio. Dire ordine del filtro, ordine del polinomio è la stessa cosa. L'ordine del filtro e l'ordine del polinomio è dal denominatore. E una volta che abbiamo l'ordine del filtro, questo non riesco a eliminarlo, vediamo un po' se... Una volta che abbiamo l'ordine del polinomio, abbiamo le posizioni di poli e zeri e quando abbiamo la posizione di poli e zeri possiamo realizzare il circuito. Va bene? Quindi questa sequenza è piuttosto standard, semplice dal punto di vista concettuale. Non c'è molto da determinare. Io vorrei soffermarmi su un aspetto, cioè la scelta del tipo di filtro e dell'ordine e poi vediamo invece l'ultimo punto, come facciamo da quando abbiamo poli e zeri a far ottenere il circuito. Ok? Ci concentriamo su queste cose. Per quanto riguarda la selezione del tipo di filtro, anche per quello in generale dobbiamo fare una cosa simile a quella che abbiamo fatto quando abbiamo guardato le categorie di filtri. Non riusciamo a esplorare tutte le categorie di polinomi che ci sono. Ne vediamo una, giusto perché possiate rendervi conto di qual è il tipo di scelta che si fa, il tipo di ragionamenti che si devono fare. Poi in generale avverrà che ciascuna categoria di polinomio è più adatta per un tipo particolare di problemi, per un tipo particolare di filtri che si vogliono realizzare. Quindi uno, a partire dalle specifiche, capisce qual è il tipo di polinomio più adatto e poi di conseguenza ne sceglie l'ordine e lo implementa dal punto di vista circuitale. Quindi il momento della scelta del tipo di polinomio più adatto in base alle specifiche non lo vediamo perché richiederebbe di vedere in dettaglio le proprietà di tanti tipi di polinomi. Però ne vediamo un caso particolare che è anche il più semplice che è quello dei polinomi di Butterworth che danno luogo ai cosiddetti filtri di Butterworth. Vediamo di che si tratta. Quindi lo vediamo a titolo esemplificativo. I filtri di Butterworth, come vedremo, consentono di ottenere una funzione di trasferimento come si dice massimamente piatta cioè praticamente senza Ripple in banda passante con Ripple nullo in banda passante. di che cosa si tratta? Dunque, i filtri di Butterworth hanno al denominatore dei polinomi di Butterworth che hanno questa proprietà dunque, se il grado del polinomio è pari le radici del polinomio sono le radici due ennesime di meno uno se il grado è dispari le radici del polinomio le radici del polinomio sono le radici due ennesime di uno questa è una definizione in pratica del polinomio di Butterworth mi permette di univocamente descriverla d'accordo? vediamo qui avrà un po' di spazio vediamolo un po' sul piano complesso allora se prendo qua n pari dove stanno le radici due ennesime di meno uno devo prendere il cerchio di raggio uno quindi prendo questo raggio uguale a uno e poi avrò che quindi i poli avranno questa proprietà s alla p che è il polo cioè la radice del polinomio alla due enne dovrà essere uguale a uno allora per fare un disegno prendiamo un enne particolare tanto per fare il conto prendiamo enne uguale a due si tratta di rappresentare le radici quarte di meno uno avevo detto ho scritto meno uno n pari quindi meno uno allora dove sono queste radici? si vede abbastanza bene allora cosa devo fare? devo prendere meno uno meno uno vi ricordate come si fanno le radici di numero complesso? meno uno il modulo della radice di uno è sempre uno la fase deve essere un quarto della fase di meno uno meno uno a fase pi greco quindi la fase dovrà essere questa qua pi greco quarti e le altre sono separate dalla prima di un due pi greco diviso l'ordine della radice due enne quindi sono una qua una qua una qua e una qua le cerchio giusto per farvele vedere meglio queste sono le quattro radici di meno uno quindi in generale la fase dovrà essere uguale a pi greco su due enne più i per due pi greco su due enne con i che va con i che va da zero a due enne meno uno d'accordo ecco qui bisogna aggiungere un attimo vedete le radici due ennesime di meno uno sono ovviamente due enne il polinomio di grado enne delle radici si prendono quelle con parte reale negativa questo andava specificato reale negativa e questo vale anche qua prendiamo prendiamo solo la metà delle radici due ennesime quelle con parte reale negativa che sono n come appunto l'ordine polinomio quindi questo è un conto se n invece è dispari allora di nuovo facciamo un esempio per capire un po' meglio il ragionamento è uguale invece devo prendere le radici due ennesime di uno non di meno uno facciamolo un attimo immaginiamo nel caso particolare che sia n uguale a tre quindi qui devo avere le radici due ennesime di uno se prendo come esempio n uguale a tre cosa devo fare vabbè chiaramente una radice ovviamente è uno una radice due ennesima di uno senz'altro è uno adesso ho preso n uguale a tre quindi sto facendo devo fare il conto delle radici seste di uno e poi le altre sono due pi greco hanno fase due pi greco diviso sei per i quindi la trovo una qua una qua una qua una qua una qua e una qua chiaramente le radici del numero complesso sono quindi i per due pi greco su due n con i che va da zero a due n meno uno quindi vedete ecco questa è in pratica una definizione dei polinomi di Butterworth chiaramente un polinomio è definito completamente una volta che sono definite le sue radici ho una ricetta per definire le radici quindi in pratica posso ricavare il polinomio di Butterworth per qualunque ordine va bene ora si tratta di capire perché è così interessante il polinomio di Butterworth vediamo di capire perché questa proprietà ce lo rende interessante per la realizzazione di un filtro questa è una cosa che ancora non abbiamo non abbiamo visto ovviamente vediamolo allora cerchiamo di capire quella posizione delle delle radici che proprietà dà al polinomio di Butterworth allora immaginiamo di scrivere così il polinomio di Butterworth B di Sì X in generale il polinomio di Butterworth di ordine N questo è un polinomio di ordine N chiaramente X è complesso dunque la proprietà più interessante di Butterworth è questo che se l'argomento del polinomio lo scrivo uguale a J omega cioè prendo come argomento un numero immaginario puro allora il modulo quadro del polinomio di Butterworth ha questo andamento 1 più omega alla 2N questa è la proprietà fondamentale la più importante la più importante la più importante il polinomio la vediamo perché cioè dimostriamo la sta cosa perché ha questa proprietà perché e dobbiamo distinguere due casi se N è pari e se N è dispari allora se N è pari qui Grazie. Se n è pari, il modulo del polinomio di Butler al quadrato è uguale a questa quantità. Perché vedete, questa quantità è tale che quando x è una radice duennesima di 1, il polinomio fa 0. Quindi il termine a destra ha esattamente le stesse radici del termine a sinistra e quindi ha esattamente lo stesso polinomio. Va bene? Questo è 0 se x alla 2n è uguale a meno 1. Quindi essendo questo vero per il polinomio di Butler, vuol dire che il polinomio di Butler è esattamente uguale a questa espressione. Ripeto, le radici in un polinomio definiscono completamente il polinomio. Va bene? Quindi, a questo punto, se x è uguale a j omega, cosa ho? Che 1 più x alla 2n è uguale a 1 più j alla 2n per omega alla 2n. J alla 2 fa meno 1, meno 1 alla n con n pari fa 1 e quindi questo viene 1 più omega alla 2n. che è esattamente quello che vi volevo far vedere. Quindi quando n pari abbiamo dimostrato che il modulo quadro di b di j omega è uguale a 1 più omega alla 2n. Quando n invece è dispari, vale ragionamento simile. In pratica, che cosa succede? Beh, a questo punto dire che il polinomio di Butler ha le radici 2n di meno 1, vuol dire dire che è uguale a questa roba. No? Perché quando x è una radice 2n di meno 1, x alla 2n fa meno 1, scusate, fa 1 e quindi quella espressione a destra dell'uguale fa 0. Va bene? Questo è come è come è costruito il polinomio di Butler per n dispari. Questo è 0 se x alla 2n è uguale a 1. Beh, a questo punto se x è uguale a j omega, vedete abbiamo che 1 meno x alla 2n è uguale a 1 meno j alla 2n per omega alla 2n. Stavolta però, siccome n è dispari, j alla 2 fa meno 1, ma meno 1 alla n fa meno 1 perché n è dispari, quindi qui viene 1 più omega quadro alla n. Quindi vedete, di nuovo viene la stessa quantità. Quindi che cosa abbiamo visto in questa tabella? che con le radici che abbiamo detto il polinomio di Butler ha, vale questa relazione. Il modulo quadro del polinomio di Butler calcolato per l'argomento uguale a j omega viene 1 più omega alla 2n. Perché 1 più omega alla 2n è interessante? Perché se ci faccio un filtro, mi viene un filtro senza ripple. Come lo faccio a fare un filtro con quel polinomio? Lo faccio in questo modo. Vediamo il caso più classico. Un filtro passa basso di Butler. Facciamo in questo modo. Facciamo in modo che la funzione di trasferimento abbia un numeratore costante e un denominatore, un polinomio di Butler. Perché se faccio così, vuol dire che chiaramente il modulo quadro di h di j omega sarà uguale ad h0 al quadrato diviso b modulo quadro di j omega, che per quello che vi ho fatto vedere un attimo fa è uguale a questa quantità. Si vede bene che non ha ripple il polinomio, perché lo capite, si vede abbastanza bene. Al denominatore è monotona la funzione. Più aumenta omega, più aumenta il modulo del denominatore. Quindi non c'è mai nessuna oscillazione. Quindi h decresce all'aumentare di omega in modo monotono. Questo si vede molto bene. E in realtà si vede che sono praticamente nulle in omega uguale a 0 tutte le derivate di modulo di h quadro fino all'ordine 2n-1. Quindi tutte le derivate di modulo di h quadro rispetto a omega fino all'ordine 2n-2n-1 sono nulle per omega che è uguale a 0. Questo è il motivo anche per cui si dice che il filtro di Butterworth ha la risposta massimamente piatta. Perché sono piatte non solo la derivata prima, ma un numero massimamente piatta. Un numero elevato di tutte le derivate di h. Come è fatta la risposta in frequenza e il filtro di Butterworth? Proviamo a disegnarla. Questo lo vedete piuttosto bene. Se traccio h in db, questo è 1, cosa avrò? Avrò che qua c'è h di 0, modulo quadro in db. Vabbè, qui non c'è bisogno di fare modulo quadro. H0 in db. Ok? E poi cos'altro devo aggiungere? Tutti i poli hanno lo stesso modulo, che è 1, rispetto a quello che ho disegnato. Quindi quando traccio il diagramma di Bode, tutto quello che succede, succede per ω che è uguale a 1. E cosa succede poi? Vabbè, ci sono n poli e quindi va giù la risposta in frequenza con n per 20 db per decade. D'accordo? Quindi se n uguale a 1 va giù con n uguale a 1 sono meno 20 db per decade. N uguale a 2, ecco facciamo così, n uguale a 2 sono meno 40 db per decade. n uguale a 3 sono meno 60 db per decade e così via. L'altra cosa che è abbastanza interessante da vedere è che, vedete, quando ω è uguale a 1, h è uguale ad h0 diviso radice di 2. Quindi se ω è uguale a 1, h è uguale ad h0 diviso radice di 2. Quindi ω uguale a 1 è il limite superiore di banda a meno 3 db. Quindi è chiaro perché è utile il filtro passavasso di Bartwell. Se voglio un filtro passavasso praticamente ideale, che è piatto il più possibile in banda passante e poi va giù con la pendenza che voglio, basta scegliere il filtro di Bartwell dell'ordine opportuno. Dell'ordine uguale alla pendenza che voglio per il fronte in discesa della funzione di trasferimento. Va bene? Quindi, e mi dà una ricetta precisa. Voglio un filtro di Bartwell di ordine 7 perché ho bisogno di 140 db per decade di pendenza per avere una banda di transizione molto stretta, per esempio. Allora vado a cercare il polinomio di ordine 7, mi dice dove sono i poli. Tipicamente il polinomio lo trovo tabulato. Vado a prendere il polinomio di ordine 7 su una tabella. Vedo dove sono tutti i poli, a quel punto prendo e lo realizzo con un filtro. Però so la posizione dei poli nel sistema. D'accordo? Quindi è un modo di procedere che riesce a diventare piuttosto rapido. Facciamo un discorso più generale. Ora, chiaramente, fatto in questo modo, io metto il limite superiore di banda in 1. Chiaramente a me tipicamente non serve a 1 un radiante al secondo il limite superiore di banda. Se mi serve un certo valore, omega 0, cosa dovrò fare? Va semplicemente, dovrò scegliere come polinomio di batteworth, dunque, scusate, dunque, se voglio un limite superiore di banda omega 0 invece di 1, in modo più generale, vorrà dire che dovrò scegliere come funzione di trasferimento un polinomio di batteworth dove però all'argomento sostituisco s su omega 0 invece di s. Così, quando che cosa vuol dire in questo caso? Vabbè, se il polinomio di batteworth ha come radici le radici due ennesime di 1 o di meno 1 insomma, a seconda che n sia pari o dispari in questo caso le radici e poli saranno come fase le radici e due ennesime di 1 o di meno 1 ma come modulo saranno tutti omega 0 d'accordo? Allora, per esempio se vado a supponiamo che voglio fare questo sarà l'ordine n per esempio per n uguale a 4 b è 4 di x vado a cercarlo su una tabella ve lo leggo è questo andamento anche sul libro per esempio ci sono i polinomini di batteworth fino all'ordine 10 io trovo un'espressione di questo tipo vedete, trovo il polinomio già raggruppato in termini di secondo grado in pratica i termini di secondo grado sono termini che hanno ciascuno due radici complesse coniugate in modo che vengano a coefficienti reali quindi questo è il polinomio di batteworth di ordine 4 vorrà dire che il filtro se avrà il limite superiore di banda in omega 0 dovrà essere di questo tipo sarà H0 e poi al denominatore al posto di x dovrò mettere S su omega 0 quindi sarà fatto in questo modo S su omega 0 al quadrato più 0 7 6 5 4 S su omega 0 più 1 e qui ci sarà S su omega 0 al quadrato più 1 8 4 7 8 S su omega 0 più 1 questa è la funzione di trasferimento se vado a rappresentare i poli sul piano complesso chiaramente come sono adesso i poli ho diviso l'argomento del polinomio di batteworth per omega 0 vuol dire che adesso i poli non staranno più sul cerchio di raggio unitario ma staranno sul cerchio di raggio omega 0 e devo andarle a mettere siccome n è pari sulle radici ottave di meno 1 allora meno 1 è qui la prima radice ottava a fase pi greco ottavi quindi è questa la seconda è pi greco quindi pi greco ottavi fase pi greco ottavi più i per pi greco quarti per i che va da 0 a 2n meno 1 che è 7 quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8 chiaramente le 4 i 4 poli del filtro di ordine 4 saranno i 4 a parte reale negativa cioè quindi 1 2 3 e 4 come faccio fisicamente a ottenere vedete come faccio in questo caso è molto semplice la cosa perché ho una funzione di trasferimento di ordine 4 che si vede bene si può rappresentare come il prodotto di due funzioni di trasferimento di ordine 2 quindi posso mettere due filtri biquadratici in cascata un filtro biquad 1 il primo filtro biquadratico e poi un secondo filtro biquadratico 2 il primo mi realizza questa parte la funzione di trasferimento e il secondo mi realizza l'altra parentesi quindi il primo è un filtro biquadratico passa basso che per esempio noi sappiamo già come fare perché facciamo con una cella di solo in chi passa basso il secondo è un altro filtro biquadratico passa basso che noi sappiamo come fare che facciamo con un'altra cella solo in chi passa basso quindi di fatto per esempio il primo biquad 1 potrà avere questi due poli complessi coniugati questo potrà essere biquad 1 e questo qui potrà essere biquad 2 che mi mette gli altri due poli e così realizzo fisicamente il filtro va bene quindi in pratica la parte c'è una parte che è la parte di scelta del polinomio e scelta dell'ordine del polinomio una volta che quella parte l'abbiamo fatta e abbiamo il polinomio scritto come in questo caso poi implementarlo è facile perché devo spezzarlo nel prodotto di funzioni biquadratiche e per ciascuna funzione biquadratica abbiamo visto bene il discorso com'è che si fa a realizzare il filtro corrispondente quindi dal punto di vista circuitale la cosa è relativamente facile ok? chiaro il concetto proviamo a fare un esempio partendo ancora un po' più a monte cioè dalle specifiche immaginiamo di avere delle specifiche e di dover scegliere che tipo di filtro che ordine il filtro e di arrivare alla rappresentazione circuitale del filtro ok? quindi proviamo a fare un piccolo l'esercizio immaginiamo un esempio se volete immaginiamo che le specifiche siano le seguenti vogliamo avere un filtro passa basso con limite superiore di banda di banda a meno 3db 20kHz poi vogliamo avere ripple uguale 0 e poi vogliamo avere che il limite della banda bloccata sia FS uguale a 40kHz e che l'attenuazione in banda bloccata sia maggiore di 1000 1000 vuol dire 60db d'accordo allora com'è che si risolve l'esercizio a questo punto dobbiamo fare un po' di scelte allora in questo caso le scelte sono un po' limitate un po' forzate perché abbiamo visto solo un tipo di filtri però in generale questo è l'unico tipo di filtri che abbiamo visto ora è quello che risponde alla specifica qui mi si chiede ripple nullo e il filtro che usa che consente di avere ripple nullo è un filtro di butterworth quindi facciamo un filtro di butterworth in risposta alla seconda specifica quindi una volta scelta la classe di filtri ripeto adesso questo è un po' condizionato al fatto che se non è quella non sappiamo che fare no? però il scorso può essere più generale adesso dobbiamo scegliere l'ordine del filtro ok? allora come si fa a scegliere l'ordine del filtro? bisogna adoperare queste indicazioni chiaro che cosa cambia l'ordine del filtro? l'ordine del filtro influenza come scende la funzione di trasferimento dopo il limite superiore di banda e quindi influenza quant'è l'attenuazione nella banda bloccata noi quindi qui che cosa vogliamo vogliamo avere che praticamente provo a disegnare un attimo la funzione di trasferimento se questa è diciamo FH il limite superiore di banda questa qui è FS la banda bloccata noi vogliamo che praticamente il filtro sia dunque questa è H0 io qui devo disegnare 60 dB sotto H0 questa è l'attenuazione in banda bloccata che voglio e io praticamente che cosa voglio voglio che dopo FS per frequenze maggiori di FS la funzione di trasferimento si trovi sotto questo livello orizzontale che ho tracciato cioè si trovi 60 dB sotto il valore il valore giusto quindi voglio un andamento all'incirca di questo tipo che da qui scenda e vada sotto d'accordo? quindi mi torno al discorso deve stare in questa regione qua per frequenze maggiori di FS maggiore o uguale FS devo stare almeno 60 dB sotto il piatto allora è evidente questa cosa ci riesco se l'ordine infiltra è abbastanza grande quindi dovrò capire qual è l'ordine minimo del filtro che mi consente di soddisfare questo requisito è chiaro? allora qual è il requisito? si vede abbastanza bene chiaramente io verifico che sia soddisfatto per frequenza FS perché se è soddisfatto per FS siccome la funzione di trasferimento scende sarà soddisfatta a maggior ragione per le frequenze più grandi d'accordo? quindi scriviamo la funzione di trasferimento H di omega modulo quadro è uguale a H0 modulo quadro diviso 1 più omega su omega H alla 2N va bene perché omega H è il limite superiore di banda che voglio quindi a questo punto quando omega è uguale a omega S devo avere H di omega S modulo quadro deve essere minore di H0 al quadrato diviso 1000 al quadrato 1000 che è un milione 10 alla 6 quindi questa è la condizione va bene H di omega S quadro lo sostituisco questa espressione di cosa viene da qui viene H0 modulo quadro diviso qui che cosa c'è 1 più è omega S su omega H che fa 2 alla 2N quindi 1 più 2 alla 2N deve essere minore di H0 modulo quadro diviso 10 alla 6 e quindi questo vuol dire che in pratica 2 alla N N elevato alla 2N deve essere maggiore di 10 alla 6 meno 1 questa è una condizione su N io chiaramente per semplicità scelgo il valore di N più piccolo che soddisfa questa disequazione perché mi consente di fare il filtro più semplice più piccolo il valore di N meno polio nel filtro più semplice il filtro quant'è il valore di N che soddisfa questa cosa si vede bene se faccio le prove mi serve almeno 5 perché 2 alla 10 fa circa un mega 2 alla 10 un mega e no sbagliato 2 alla 20 un mega quindi mi serve N uguale a 10 2 alla 10 mille 2 alla 20 quindi ho bisogno di N uguale a 10 mi serve un filtro di Butterworth di ordine 10 se provate a farlo chiaramente 2 alla 20 è circa un mega è più di un mega e quindi torna 2 alla 18 se prendo N uguale a 9 viene circa 250k quindi non soddisfa ok quindi a questo punto so che devo fare un filtro di Butterworth di ordine 10 come faccio a sapere come è fatto il filtro di Butterworth di ordine 10 beh sono le radici ventesime di meno 1 con la parte reale negativa però tipicamente io le informazioni le trovo anche tabulate e trovo tabulato il polinomino di Barti con il diodine 10 come prodotto di 5 polinomi di secondo grado mi vado sulla tabella e li trovo e mi viene una cosa di questo tipo mi viene quindi prendendo la tabella H di S uguale H0 che moltiplica e qui devo prendere il primo termine di secondo grado del polinomio che è 1.974 S su omega 0 più 1 poi prendo il secondo termine del polinomio poi il terzo poi il quarto poi il quinto chiaramente sono più o meno tutti uguali e come dire essendo il polinomio con radici ennesime di essendo le radici del polinomio con modulo 1 mi verrà che i termini di secondo grado a moltiplicare avranno tutti il termine di primo grado variabile mentre invece il termine di grado 0 e il termine di grado 1 sarà uguale a 1 quindi diciamo saranno diversi questi termini soltanto per questo pezzo poi tutto il resto sarà uguale quindi non sto a rappresentarlo questo è proprio per costruzione del polinomio e a questo punto devo implementarlo com'è che lo implemento e chiaramente lo prendo e lo realizzo questo sarà quindi un andamento di questo tipo hds sarà h0 diviso b10 ds su omega 0 quindi questo fatto da 5 termini di secondo grado a moltiplicare b10 polinomio di batte o di ordine 10 l'implementazione circuitale come sarà fatta sarà fatta piuttosto banalmente avrò 5 filtri biquadratici passabanda in cascata il primo il secondo il terzo il quarto e quinto il primo mi fa questo il secondo mi fa questo pezzo il terzo mi fa questo il quarto mi fa questo il quinto mi fa questo e questo è l'uscita oh guardate questo è proprio il modo in cui si realizza vedete diventa tutto sommato abbastanza automatico e non c'è molto da chiaramente il modo in cui si riesce a sconalizzare circuiti grandi si usa strutture modulari per cui poi si enuplica quello che già abbiamo per esempio come è fatto il primo come tutti gli altri sarà una cella passa basso di solda in key facciamo il primo come è fatta la cella passa basso e solo in key abbiamo l'ingresso poi abbiamo i due resistori e le due capacità se vi ricordate la funzione di trasferimento di questa è di questo tipo a diviso l'abbiamo calcolata l'altra volta viene s su omega 0 al quadrato più s su q omega 0 più 1 vedete quindi ha esattamente la forma che volevamo noi dove omega 0 è 1 su rc e invece q è 1 diviso 3 meno a questo l'abbiamo calcolato venerdì scorso quindi per esempio in questo caso io che cosa dovrei fare dovrei scegliere 1 su rc è uguale a omega 0 quindi deve essere uguale a 2 pi greco per 20 kHz 2 pi greco per 20.000 quindi devo scegliere una r e una c tale che mi dia questa espressione questi sono sono secondi alla meno 1 chiaramente e poi in questo caso questo termine 3 meno a a deve essere uguale a 1.974 che è il primo termine di primo grado quindi questo vuol dire che a deve essere uguale a 3 meno 1.974 quindi circa 1 circa 1 poco più di 1 ma a è esattamente 1 più r2 su r1 quindi questo mi dà un'indicazione sul valore di r2 e di r1 vedete quindi questa condizione mi dice quanto deve essere rc della prima cella su allen key la condizione su q mi dice quanto devono essere r2 e r1 va bene a questo punto quindi ho più gradi di libertà che condizioni però posso fare la cosa abbastanza semplicemente è evidente che poi prendo il secondo filtro passabasso ho la stessa cosa ricavo di nuovo i componenti poi prendo il terzo e così via per come è fatto il polinomio di Butterworth vi dovrebbe venire abbastanza evidente che rc è sempre uguale perché uno su rc fa sempre omega 0 e l'omega 0 è uguale per tutte le celle biquadratiche è la frequenza corrispondente al limite superiore di banda cioè 20 kHz quindi queste le prendo tutte uguale mentre invece r2 su r1 cambia perché il termine primo grado cambia per ciascun elemento biquadratico e quindi quello deve cambiare per esempio potrei prendere r1 uguale a r per avere tutti i componenti uguali che dal punto di vista per esempio la produzione è più pratico più i componenti sono uguali meglio è e quindi cambiare nelle 5 celle biquadratiche che metto soltanto la resistenza r2 in modo da ottenere il polinomio di battevort e tutto il resto è fatto uguale d'accordo? in questo caso riesco a realizzare il circuito di un filtro di battevort di ordine 10 con frequenza superiore limite superiore di banda a 20 kHz ecco diciamo un filtro di battevort di ordine 10 esce tipicamente un filtro molto sofisticato per applicazioni audio non è frequente trovarlo e non è un circuito semplicissimo ci sono comunque 5 operazioni insomma un circuito di una certa complessità come filtro il numero di componenti è abbastanza elevato se lo immaginate tutto insieme è un bel bel filtro audio diciamo d'accordo? quindi a me non interessa soprattutto che abbiate molto molto chiaro il concetto che cosa dobbiamo fare e come si procede dalle specifiche fino a definire esattamente il circuito chiaramente con specifiche diverse si potrebbero scegliere polinomi differenti tipicamente poi se uno si trova a lavorare nel settore della realizzazione dei filtri a quel punto va a vedere tutti i polinomi che ci sono e tutte le caratteristiche particolari dei filtri diciamo che uno dei polinomi di Bateworth è molto bello dal punto di vista matematico molto elegante dal punto di vista applicativo spesso a parità di cose che si riescano a ottenere mi richiede sempre un numero di poli molto elevato quindi diciamo che in questo caso volevo avere dei fronti un'attenuazione in banda soppressa molto forte e mi viene richiesto un filtro di ordine 10 che è molto elevato ci sono diverse classi di polinomi che mi consentono per esempio con un filtro di ordine minore di ottenere la stessa attenuazione magari pagando con un pochino di ripple in certi casi può valere la pena perché spesso per esempio anche in un filtro audio il ripple non è granché udibile insomma se c'è un ripple di un db è difficile che un orecchio se ne accorga però magari invece di avere un filtro di ordine 10 riusciva a fare la stessa attenuazione con un filtro di ordine 5 insomma tipicamente di mezzo di ordine filtro più che di mezzo costo e l'orecchio difficilmente se ne accorge quindi tanto per fare un esempio ci sono questi tipi di trade off che si possono ottenere va bene ok con questo noi chiudiamo la parte di trattazione dei filtri in pratica quindi ricapitolando che cosa abbiamo visto abbiamo visto prima le definizioni dei filtri le proprietà che si indicano per specificare il comportamento dei filtri le proprietà dei filtri biquadratici un esempio di implementazione per ciascun tipo di filtro biquadratico e poi più in generale come si mettono insieme i filtri con un numero maggiore di poli guardando nel caso particolare l'esempio dei filtri di Butterworth ok questo chiude la trattazione dei filtri che facciamo in questo corso ok facciamo una pausa un attimo grazie a tutti grazie a tutti